Lìa Pipitone, uccisa per mano mafiosa il 23 settembre del 1983 nel quartiere della Renella, all'età di 25 anni, era nata per la libertà. Figlia del boss della Renella Antonino Pipitone, il suo omicidio avvenuto durante una finta rapina maturò secondo le sentenze che hanno visto la condanna dei boss Vincenzo Galatole e Antonino Madonia in seno a Cosa Nostra in ossegue alle regole ferre imposte della cultura patriarcale mafiosa dalla quale Lìa aveva osato affrancarsi. Sì, oggi Lìa Pipitone insieme a tante altre donne che hanno resistito all'oppressione del potere mafioso non è riconosciuta come vittima innocente di mafia perché figlia di un boss, nonostante le sentenze chiariscano la sua lotta per l'emancipazione dal contesto familiare. Domani alle 15 l'appuntamento invia Papa Sergio I numero 61, luogo della sua uccisione per un presidio durante il quale il coordinamento di Libera Palermo apporrà una targa temporanea in ricordo della sua voglia di libertà e ribellione e per denunciare la necessità del suo riconoscimento in qualità di vittima innocente di mafia.